Un teatro per la città di Baronissi, il centro della Valle dell'Irno, ha deciso infatti di investire in cultura allestendo la Sala delle Muse nella struttura del presistente Centro Sociale Paolillo di Antessano presso l'Accademia della Musica e dello Spettacolo grazie ad Animazione 90 e Teatro 90. Un progetto portato avanti da tempo che consentirà ai cittadini di Baronissi di avere un proprio cartellone teatrale senza doversi spostare verso Salerno o Mercato San Severino. L'8 febbraio il primo spettacolo in assoluto della rassegna che è di teatro e di danza con Repliche il giorno seguente con Jennifer, con Antonello De Rosa, a seguire Comico Show con Salvatore Gison ed ancora Sebastiano Somma con Ricordi, Comicissima Tragedia del Teatro 90 e Conclusione ad Aprile su Il Sipario all'Aurora della Compagnia del Caffè Letterario. L'Accademia ci garantisce cultura, ci garantisce anche una formazione artistica di tanti nostri giovani ma anche momenti di serenità, di apprezzamento di spettacoli e di eventi che sicuramente sono all'altezza della situazione. Dopo un periodo di rodaggio finalmente parte questa prima idea progettuale di avere teatro a Baronissi nel centro Lemuse che è il centro sociale Paolillo. Voglio rimarcare ancora l'impegno di tutte le associazioni culturali di Baronissi che possono fare riferimento a quella location, possono utilizzare quella location e quindi salvaguardare anche l'aspetto sociale. Resta un centro sociale, il binomio arte-sociale è forse la connotazione di questa novità. Baronissi aveva bisogno di una sala teatro e Sala Lemuse è una degna sala teatro perché è bella, perché è elegante, perché è attrezzata in maniera professionale, devo dire con grande attenzione. Ci apriamo con la prima stagione teatrale, l'amministrazione comunale di Baronissi, il sindaco Valiante, ci sono stati vicini e ci sono vicini e ci saranno vicini perché l'orgoglio sarà, lo dico con un entusiasmo ragazzino, scusate anche se l'età ci sta, l'orgoglio sarà che noi inaugureremo la prima sera e vedremo i cittadini di Baronissi che si siederanno in sala, la vedranno in uno spettacolo importante senza dover andare per forza o a Salerno o a Mercato San Severino.